Credo un po' deluso oggi per questa partita. Deluso perché non siamo riusciti a ottenere tre punti. La partita l'abbiamo fatta, abbiamo subito questo gol su una loro punizione, poi dopo abbiamo sempre tenuto la palla noi, però non siamo riusciti a trovare il varco giusto. Il dato di fatto oggettivo è chiaro, l'analisi corretta, quella che ha fatto Matteassi, ma il dato di fatto oggettivo è che l'unico tiro in porta è stato quello di Pontisso, sfortunato come giovedì scorso che ha centrato il legno. Un tiro in porta in 90 minuti contro una fermana per 40 in 10 è un po' poco. Sì, soprattutto la fermana era tutta nella loro area di rigore. Abbiamo fatto fatica a trovare lo spunto giusto, potevamo fare l'ultimo passaggio migliore, potevamo tirare un po' di più in porta, però era dura perché loro erano tutti dietro, però effettivamente potevamo fare qualcosa in più. Che cosa è successo nell'ultima azione perché Ferrari ha protestato molto? Cosa avete visto dalla panchina voi? Perché eravate proprio in linea? Da quello che abbiamo visto, io sinceramente ho visto male dalla panchina, perché non voglio fare il finto, però da quello che dicono tutti, la presa non di braccio, quindi doveva essere regolare. Ma secondo me l'abito voleva fischiare la fine, era andato un po' in tilt. Insomma, questa mi sembra una considerazione importante. Massimo, Matteassi è l'auricolare e ti ascolta a te. Beh, sì, probabilmente è andata come dice Luca Matteassi, anche perché le immagini non sono chiare. Sembra che abbia toccato il pallone con la spalla, effettivamente Ferrari, però le immagini non sono chiare. Io però vorrei tornare alla partita perché sì, d'accordo, possesso palla, torniamo sempre al solito discorso, ma improduttivo, sterile, un solo tiro in porta di Pontisso nel secondo tempo, dopo che però la fermana in dieci aveva addirittura sfiorato il raddoppio con Graziano. Ma quella mezza rovesciata alta? Eh beh, sì, quella è una palla a golle. Sì, vabbè, ma insomma, dai, non tanto per me. Però noi non l'abbiamo, ripeto, anche in dieci, è vero, potevamo fare qualcosa in più, ma loro erano tutti in tolare di rigore, l'abbiamo provato, dovevamo allargarla un po' di più e cercare i due attaccanti, perché avevamo messo i due attaccanti, i due prime punte davanti, dovevamo fare questo. Cioè mancano le idee, mancano, insomma. Mancano le idee, perché è chiaro che... No, 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 non dico questo, non ho detto questo, ho detto che magari dovevamo farlo un po' di più in quel momento. Beh, lo dico io allora, perché insomma... No, lo dico io, perché è chiaro che se affronti la fermana, io non voglio fare polemica, Mattea, se ci mancherebbe... Per me non mancano le idee. No, nel senso che... No, 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 ma infatti io dico, non ho detto che mancano le idee, solamente che lì potevamo magari mettere qualche pallone in più in aria, visto che avevamo due torri importanti. A proposito di attaccanti, Mattea, se Cernigoi non riesce a incidere da quando è arrivato, perché? Eh, perché... Jacopo si sta impegnando, sta facendo come tutti gli attaccanti, sta facendo quello che vuole il mister, e purtroppo in questo momento ancora non ha fatto gol. Chiaramente l'espulsione di Ferrari è anche pesante in chiave Pesaro. È pesante, è pesante, ma anche a un giocatore importante come Loco, giocherà qualche ad un altro. Massimo, studio l'ultima per il direttore Matteassi? No, perché è chiaro che se noi guardiamo i risultati del giorno di ritorno, Luca, l'obiettivo è il terzo posto, no? Tra l'altro si sta allontanando perché oggi la Cesena ha vinto, quindi meno sette dal Cesena, ci sono ancora tante giornate. Però se calcoliamo i punti fatti, se sommiamo i punti fatti nelle prime otto giornate del giorno di ritorno, siamo a quota 13, meno due rispetto alle prime otto giornate di campionato. Sì, sì, i numeri non mentono mai. Stanno dicendo quello, è vero. Vediamo in queste altre partite di riprenderci i punti persi in queste partite, insomma. Ma è deluso o arrabbiato oggi? No, dispiace perché, come avete detto voi, è inutile stare qui a girarci intorno. Anche loro hanno giocato in dieci, per tanto tempo dovevamo cercare di ottenere tre punti. Ma la colpa di chi è? La colpa di chi è? La colpa è che non siamo riusciti a vincere, non c'è un colpevole.